Come dal capo del colpo richiesto, ieri una richiesta di incontro tramite coordinatore nazionale è partita agli organi competenti. Aspettiamo la data dell'incontro per poter discutere la distribuzione organica sul territorio, che negli anni ha tagliato le gambe completamente al territorio siciliano. La distribuzione dei mezzi di servizio quinquennale non è assolutamente efficiente. Chiediamo che vengano assegnati mezzi doni ai tempi, come alluvionali e mezzi boschivi. L'assunzione dei precari e dei concorsi pubblici darebbe un grosso respiro al colpo nazionale dei vigili del fuoco. Pertanto aspettiamo questa data per ridisegnare le piante organiche nazionali.